Ha attirato subito l'attenzione questa mattina un insolito bagnante sulla spiaggia dell'Arzilla, intento a godersi un bagno ristoratore. E non poteva che essere così, dato che l'insolito frequentatore altri non era che uno splendido esemplare maschio di fenicottero rosa. Il manto non è ancora completamente rosa a causa della sua giovane età, ma presto lo diventerà grazie all'alimentazione che questi splendidi uccelli hanno, piccoli invertebrati ricchi di beta carotene, il cui pigmento rosso arancio poi si depositerà sulle piume. Il motivo di questa sua presenza stamane è da ricondurre alla stagionalità in corso per questi animali che in questo periodo sono in pieno flusso migratorio e quindi come di solito facciamo noi umani durante un viaggio in un autogrill, anche lui ha fatto una sosta. È un giovane di fenicottero rosa, adesso è iniziata la migrazione diciamo al rovescio, quindi in primavera i migratori venivano nelle nostre zone, alcuni ripartivano, adesso i fenicotteri si stanno spostando e ci sono dei giovani che si spostano e dato che magari non conoscono bene le rotte o i punti dove possono mangiare, a volte si fermano anche nei posti più pensati, insomma, oppure in mezzo anche alla gente e probabilmente questo fenicottero ha fatto così, si è fermato lì vicino alla foce per riposarsi e mangiare. Che animale è il fenicottero? Che specie è? Dunque, è chiaramente un uccello che è particolare perché vive nelle saline generalmente e la colorazione è dovuta alle cose che mangia, mangia dei piccoli crostacei che contengono il carotene o coloranti simili e la colorazione è dovuta proprio a questo, cioè se un fenicottero viene alimentato con altre cose per della colorazione rosa. In quel caso è comunque un giovane, quindi è nato quest'anno e la colorazione è marroncino, poi col passare dei mesi la colorazione diventerà quella classica del fenicottero bianco e rosa.